Cosa vuoi ricevere una skin gratis? E se anche tu la vuoi ricevere 5 se non devi andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like In questo momento si vuoi ricevere anche tu una bellissima skin gratis Però sapevi che questa skin Eren è ora disponibile per tutti i giocatori che è arrivata esattamente ieri insieme alla season 2 In questo video vi vedrò a spiegare come andare a sbloccare in modo completamente gratuito E raga questa skin si sbloccherà attraverso di andare qui su questa sezione pass battaglia Questa skin arriverà tra qualche giorno o meglio tra qualche settimana Dopodiché dovete andare nella sezione incariche e completare qualche semplicissimo incarico Così dopodiché sbloccherete subito questa skin Cosa vuoi ricevere anche un regalo da parte mia è molto semplice Devi andarmi alla scelta e di qui sotto nei commenti in modo tale che saprò a chi andrà a fare un regalo Utilizzo il codice supporto ingratore coding gamer 582 Ciao ragazzi, vai